Il compito e la responsabilità dell'offerta formativa scolastica regionale è quella di offrire delle opportunità, degli stimoli, delle occasioni. Penso ai licei, agli enti di formazione professionale, alle scuole tecniche e professionali, ai corsi di alta formazione dell'università. Noi abbiamo però la possibilità di offrire delle cose, i giovani hanno l'opportunità di raccogliere e di inquadrare in base alle loro attitudini, alle loro volontà, ai loro desideri, alle cose che sanno fare, gli strumenti per immaginare il loro futuro e quindi sono i giovani che si danno un obiettivo e possono provare a realizzarlo. Ce la faranno se si impegneranno, se ce la mettono tutta, se sanno mettere insieme i diversi pezzi che vengono messi a disposizione dalle istituzioni, quelli buoni e anche quelli che potremmo fare meglio. Però il futuro e la vita di ognuno è in mano a ciascuno di noi, soprattutto ai ragazzi. Girando le scuole ho visto molti di voi fare cose straordinarie, avere delle idee, provare a realizzarle, mettere in campo dei progetti, gestire i progetti e quindi creare collaborazioni. Questo è veramente l'auspicio che ognuno possa trovare lavorando, impegnandosi, mettendocela tutta la propria strada.